nino antonellini era direttore del coro della rai di roma il coro di stato una cosa che abbiamo perso ormai molti anni fa siamo uno dei pochi stati d'europa che non hanno un coro nazionale questo coro si poteva permettere di commissionare eseguire opere corali nuove come i nonsense scritti da goffredo petrassi quindi sentite nella loro esecuzione i nonsense rappresentano un'opera straordinaria innovativa con cui l'italia fa capire al mondo che riscopre e riscoprendo il madrigale riscopre anche il modo divertente di trattare le voci del novecento altrimenti relegato come visione corale a una visione scura e cupa